Per Sportello Reclami siamo qui con Gabriele che ci ha segnalato una specie di discarica a cielo aperto. Gabriele, alle nostre spalle qui nei pressi di Palazzo del Pero c'è davvero abbandonato di tutto? Eh sì, hai veramente colto nel segno, c'è veramente di tutto. Come si può vedere ci sono boccioni dell'acqua, gomme, batterie, c'è veramente di tutto e non è un bello spettacolo da vedere. Voi passate in questi sentieri di campagna qui vicino alla superstrada perché amate andare in moto. Spesso siete accusati di sporcare ma invece siete voi che segnalate quando ci sono dei veri e propri problemi. Sì, infatti ci teniamo anche a segnalare perché noi lo viviamo in prima persona, diciamo l'ambiente boschivo e ci teniamo che rimanga pulito perché noi in primis non sporchiamo perché ripuliamo tutto quello che insomma ci portiamo dietro e non lasciamo niente dove passiamo e quindi ci teniamo anche che le nostre zone siano pulite e rispettose. Gabriele, questa serie di rifiuti abbandonati qui vanno tolti al più presto. Noi facciamo appello a chiunque se ne debba occupare perché ripulisca questa parte di bosco. E infatti ci teniamo a fare questo appello e vi abbiamo fatto venire apposta perché c'è questo spettacolo indecoroso non vogliamo che si prolunghi per tanto e speriamo che non si ripeta in altre zone. Siamo per Sportello Reclami, ci siamo spostati, adesso siamo vicino alla salita dello Scopetone con Emanuele perché Emanuele un'altra discarica, una piccola discarica anche questa ovviamente abusiva, mattonelle, pezzi di lamiera, c'è un po' di tutto. Sì purtroppo anche questa è un'altra discarica abusiva che si è creata nella montagna di Poti, ecco proprio ai piedi e penso che in questo momento forse non sia l'unico problema l'enduro il quale in questo momento è molto preso dalla forestale ma forse dovrebbero guardare un po' anche all'inquinamento che c'è in tutta la montagna perché come qui all'arco della montagna ai piedi e fino in cima ci sono discariche di tutti i tipi di gomme, macchine abbandonate, rifiuti di tutti i tipi e però mi sembra che in questo momento il campo principale sia l'enduro, fare le multe a noi perché forse sporcarsi le mani alla fine non renda più di quello di fare le multe. Emanuele, questi rifiuti non sappiamo bene, potrebbero anche essere rifiuti pericolosi quindi questo è un allarme ancora più importante? Sì, penso proprio di sì, soprattutto qui possiamo vedere che si trova dell'Ethernet come abbiamo visto prima ci sono batterie, pneumatici e sono addirittura in un fiume quindi inquinano le falde acquifere, però come ti ripeto nessuno pensa a queste cose. Voi continuate comunque a viverla la montagna, a vivere la natura, a segnalare tutte le brutture che ci sono? Certo, noi continueremo a far vedere tutti i problemi che si possono trovare.